Ben trovati i gentili telespedatori di Prima Free, nuova edizione del telegiornale di Padova e di Rovico. In apertura parliamo proprio di agricoltura e di un nuovo prodotto enologico del nord-est. Si tratta del Pinot Grigio delle Venezie, è stato presentato nei giorni scorsi, lo è stato elogiato dal nostro governatore del Veneto Luca Zaia e dalla collega del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Andiamo a sentire dunque le loro parole per questa soddisfazione del nuovo Pinot Grigio delle Venezie. Assolutamente, Luca ha ragione, c'è questa Ferrari, anzi direi che gli abbiamo messo anche il pieno, adesso però bisogna guidarla bene e si tratta di coinvolgere tutti i produttori, anche perché credo davvero che abbiamo fatto un lavoro straordinario, che era atteso tra tantissimo tempo. Siamo riusciti a mettere insieme le nostre istituzioni a partire dal Ministero, adesso però bisogna che le gambe siano quelle dei produttori e che capiscano che hanno una grandissima opportunità. Lei ha rivendicato il 75% della produzione comunque Veneto, è giusto ricordarlo? No, guardi, più che una rivendicazione ho detto che abbiamo fatto tutti i sacrifici, l'ha fatto il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige. Dico che oggi la grande responsabilità ce l'hanno i viticoltori, hanno un grande lavoro fatto dalle nostre tre regioni, l'abbiamo fatto assieme a loro, però oggi il governo, come vogliamo noi, passa in mano ai viticoltori che dovranno difendere 24 mila ettari, 3 milioni di ettolitri, ma soprattutto una nuova identità che è il Pinot Grigio delle Venezie. E ora parliamo invece di banda, banda ultralarga che arriva anche nelle zone più difficili del Veneto, le zone del Consiglio non raggiunte, infatti dalla connessione dati saranno agganciate alla rete entro il 2020. Un'importante risposta ai territori che hanno la necessità di essere quanto prima connessi, lo ha ribadito Riccardo Barbisano, vice capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, che ha dato notizia della risposta ricevuta da una sua interrogazione in merito allo sviluppo della banda ultralarga proprio nella zona del Consiglio, tra le province dunque di Belluno e di Treviso. Il piano per la banda ultralarga in Veneto, afferma Barbisano, sta entrando nel vivo, con uno stanziamento di 400 milioni di euro. La regione del Veneto andrà a intervenire in tutte quelle aree definite zone bianche, oggi non comperte adeguatamente dai collegamenti di rete dati. Tutti i comuni del Veneto, continua il consigliere, saranno interessati da un progetto che si svilupperà in quattro fasi. Tra le aree oggetto di intervento ci sarà anche la zona del Consiglio, un'area vasta che si sviluppa tra le province di Treviso e Belluno e che da tempo necessita di una infrastruttura dati per dare risposte ai privati, ma in particolare a tutte le attività ricettive presenti in zona. I lavori per stendere la fibra, evidenzia Barbisano, partiranno entro il 2018 e per dare poi entro pochi mesi la possibilità ai privati di stipulare i contratti per accedere quindi al servizio. È un investimento importante che darà la possibilità a molti territori di poter usufruire dei servizi di rete sicuri e veloci. Andiamo a Portotolle, parliamo invece di allineazioni per quasi 2 milioni di euro. Una corretta politica di dismissioni immobiliari può consentire di raggiungere importanti risultati e grazie all'allineazione proprio dei beni immobili il Comune potrà reperire risorse finanziarie utili per il finanziamento delle opere pubbliche che serviranno a valorizzare ancora di più il nostro territorio. Chi parla è l'assessore Mirko Mancina che ha illustrato il piano delle allineazioni e le valorizzazioni di proprietà comunali che potrà produrre durante il Consiglio Comunale. L'Assemblea ha infatti approvato la variante urbanistica che modifica la destinazione di zona dell'ex scuola elementare di Pila e del campo di calcio di Via Brunetti a Catiepolo, ora diventate aree residenziali. Il piano delle allenazioni triennali prevede di portare nelle casse comunali oltre 1 milione e 800 mila euro, di questi 986 mila di quest'anno, 600 mila nel 2018 e altri 230 mila invece nel 2019. Gli uffici stanno preparando nel più breve tempo possibile le aste pubbliche, ha proseguito lo stesso assessore Mancina. Siamo arrivati a queste scelte attraverso un accurato censimento di tutte le proprietà immobiliari e mettendo in campo quella che definirei una ponderata opera di allineazione. Nel prossimo triennio, quella che metteremo in vendita oltre alle 11 unità immobiliare legate al piano di vendita, ha approvato dalla Regione anche altri, ha detto 17 appartamenti che sono per lo più sfitti. E ora parliamo invece di Salvazzano. Ci sono buone notizie per quanto concerne le tariffe che sono calate addirittura del 7% negli ultimi tre anni, una riduzione in bulletta del 6,7% per l'esattezza, in meno che dal 2014 ad oggi i cittadini di Salvazzano si sono visti abbassare quindi dei costi del servizio dei rifiuti. Un trend che l'amministrazione comunale di Salvazzano ha voluto mantenere con l'approvazione in Consiglio Comunale del nuovo piano tarifario per il servizio di igiene urbana. E anche per il 2017 nessun aumento della tari e il mantenimento dell'ottimo standard del servizio che a Salvazzano è gestito da Etra. Nel 2009, quando ci siamo insediati, ha spiegato il sindaco Enoch Soranzo, abbiamo ereditato un bilancio che portava a un aumento del 3,63% della tariffa. Dal 2010 al 2013 non c'è stato alcun adeguamento, nei tre anni successivi la progressiva riduzione rispettivamente dell'1,2%, poi del 3% e poi del 2,5%. Non si è mai visto un trend di questo tipo e preoccupa che questo importante sforzo possa essere vanificato dalla Costituzione del Consiglio di Baccino per la gestione dei rifiuti. Un obbligo, ha detto, quello di approvare la delibera per la Costituzione del nuovo organismo che viene imposto dalla Regione Veneto a cui il Consiglio Comunale di Salvazzano ha detto no, come i consigli di Saccolongo e di Rubano. Torniamo in provincia di Rovigo, a Porto Viro. Parliamo di una novità, se vogliamo, tra i giovani, perché a quanto pare ci sono sempre più giovani a Porto Viro che sono attratti proprio dalla lettura. Una città di giovani lettori a darne prova. Un'attenzione crescente da parte delle nuove generazioni per i libri sono i dati che sono stati forniti proprio dalla Biblioteca dei Ragazzi di Via Piave che ha registrato negli ultimi mesi un notevole aumento proprio dei prestiti. Ebbene, nel periodo da gennaio a marzo sono state 2.503 le consegne dei libri, un numero nettamente superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno in cui i volumi sono stati 1.675. E se da un lato i numeri denotano un interesse sempre maggiore, un dall'altro in merito va senza dubbio al personale e le attività programmate per avvicinare evidentemente i giovani al mondo dei libri. Maggio, anche a Porto Viro, sarà il mese della lettura per la tredicesima edizione di Libri Infiniti, un evento che viene promosso dalla provincia di Rovigo e dal sistema bibliotecario provinciale che ha reso possibile con la collaborazione delle scuole, i comuni e le biblioteche aderenti appunto all'SBP. Le attività programmate alla biblioteca dei ragazzi cominceranno il prossimo 5 maggio con l'attore Matteo Mirandola che terrà il laboratorio Io penso, io sono, una storia sull'idea del bambino come individuo, persona, pensante sin da piccolo. Andiamo a Vigonza adesso, parliamo invece del giro di vite contro gli ecovandali, arriva una telecamera mobile contro chi abbandona i rifiuti ingombranti sul territorio di Vigonza. Quello dello scarico indiscriminato delle immondizie è del resto un fenomeno purtroppo in aumento ma che adesso ha a quanto pare le ore contate. L'ufficio tecnico comunale ha appena acquistato infatti una telecamera mobile Falco che potrà essere spostata periodicamente per beccare i furbetti in flagranza di reato. Numerosi del resto gli abbandoni di rifiuti in diverse zone del territorio segnalati anche nelle ultime settimane. Sacchetti di plastica riempiti con ogni sorta di immondizia lasciati sulle scarpate dei fossati o lungo i cigli delle strade. E proprio in quelle zone dove più di frequente sono stati registrati gli abbandoni verrà collocata la telecamera che sarà poi di volta in volta spostata a seconda delle segnalazioni. Grazie a questo strumento di ultima generazione la videocamera è in grado di fornire immagini ricche di dettagli ripresi con ottima definizione. Inoltre il dispositivo riesce a riprendere efficacemente anche con scarsissima illuminazione fornendo sempre immagini chiare e con dettagli ben distinguibili. E adesso invece andiamo con i colleghi del meteo per scoprire come saranno le prossime condizioni meteorologiche per questo weekend. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilmeteo.it vi augura di trascorrere una buona domenica. Previsioni dunque per il 23 aprile 2017. Sarà una giornata all'insegna del tempo stabile, qualche nube sparsa ma precipitazioni quasi assenti. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it Al nord più nubi e locali deboli piogge sulla Liguria di Levante, in particolare sullo Spezzino. Asciutto sul resto delle regioni con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Spostiamoci al centro, locali addensamenti sull'Alta Toscana con possibile piovigine sul Massese. Stabile altrove con cielo del tutto sereno in Sardegna, poco nuvoloso invece altrove. Raggiungiamo infine il sud. Poche novità. Sarà ampiamente soleggiato ovunque. Poche nuvi sparse sulle regioni peninsulari, cielo del tutto sereno sulla Sicilia. I venti saranno deboli o localmente moderati da direzioni variabili su tutti i bacini. Le temperature risultano essere in lieve aumento, valori minimi compresi tra 1 e 13 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 22 gradi al nord e anche al centro e fino a 21 gradi al sud. Per rimanere sempre aggiornati, seguite la pagina Facebook di ilmeteo.it. Per oggi è tutto, arrivederci. Grazie ai colleghi del meteo.it. Noi ci fermiamo con l'edizione di Padova e Rovigo del nostro telegiornale. Non mi resta che augurarvi un felice weekend. Ci ritroviamo come sempre nelle prossime edizioni a risentirci con la nostra informazione.